E' qua ragazzi noi siamo pronti ma c'è strano Gianni puoi parlare Gianni 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 Giorgio Stefano C'è un abbandonato Vabbè tu ce l'hai qui? Aspetta un attimo Stefano Vuoi mandare il trucco a Salvatore facciamo la prima regia Ma perché te ne mangi? Sta facendo? Si Si No vai un attimo Ma porca di quel c***o Ma porca di quella c***a Ma porca di quella c***a Scusa Fanno un po' dentro eh Il clic No vai un attimo Perché per andare a mettere Recco ha lottolato tutto qua Ma senti il clic Ma tu sei pronto? No vai giù Allora non cominciare la registrazione Non lo so che c***o è successo Aspetta un attimo Che è successo? A faccia che te A faccia che te Gianni ci vedi? Ci vedi dalla webcam C***o 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 Grazie a tutti.